Elsa! Elsa! Ti prego, voglio stare sola. Hai una sorella, non sarai mai sola. Tranne quando non sono in giro, ma in quel caso ci sarei con lo spirito. Comunque, adesso sono qui con te, e sai, è una cosa buona. Che c'era scritto nel diario? Vuoi dirmi qualunque cosa? I nostri genitori non sono partiti per questioni importanti come tutti credevano. Era solo una copertura. Per cosa? Leggi. Vorrei non aver mai dovuto nascondere la verità alle mie bambine, ma la verità sarebbe troppo dolorosa. Quello che abbiamo visto in Elsa ci spaventa, e deve essere fermato. Avevano paura di me, ecco perché se ne sono andati. Perché pensavano fossi un mostro. No, assolutamente no. Mi rifiuto di crederci. Ma il diario dice. È solo perché non dice dove stavano andando, cosa stavano facendo. Può essere che ci siamo sbagliate. Anna, per colpa mia non ci sono più. Per colpa mia non saranno il tuo matrimonio domani. Mi dispiace tanto. Non devi, non è colpa tua. Non sei un mostro. Non la penso così. Anche il regno la pensa come me. E sono sicura che neanche i nostri genitori la pensassero così. Il diario è solo una parte della storia. E come lo sai? Perché? Istinto? Ok, va bene, non è abbastanza. Ma ci saranno più risposte là fuori riguardo a cosa sia successo a loro. So a chi possiamo chiedere aiuto. Chi? Ai miei futuri suoceri. Hai una sorella, non sarai mai sola. Tranne quando non sono in giro, ma in che caso sono... Ma vaffanbagna... Ma vaffanbagna... Ma vaffanbagna... Fa vula Elsa! Elsa! Mortacci 2 Elsa! Avevano paura di... No, assolutamente no. Nivea! Vediamo come si sente. Allulele!